Il Viale Baden Powell Il Movimento Scoutistico che oggi conta milioni di iscritti in tutto il mondo e che tuttora si basa sui quattro grandi punti enunciati proprio da Robert Baden Powell Formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo Attraverso questi punti fondamentali, gli scout cercano allora, come adesso, di creare un mondo migliore seguendo la prima legge dello scoutismo Lo scout si impegna a lasciare il luogo dove ha soggiornato migliore di come l'ha trovato Una maniera per ricordare alla società che lo scout rimane tale anche quando non porta la divisa d'ordinanza Lavorando anche per tutta la comunità, sono una risorsa importante di cui andarne fieri Grazie a tutti